Fischer, un ingegnere... 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 Grazie. Grazie. Cosa c'è che non va adesso? Dagli una volta. Di solito funziona. Sei un tecnico diplomacolo. Io non lo tocco. Nemmeno una traccia. Grazie. Grazie. Quattro casse su cinque, Sam. Cerca di trovare l'ultima. Grazie. 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 Perché avete torturato Morgano? Ah, la Sierda. Vuole gli algoritmi. Algoritmi per computer. E che cosa se ne fa un rivoluzionario comunista di seconda categoria di un algoritmo informatico? Non lo so. Perché? Forse non lo sa nemmeno la Sierda. Credo che ci abbia ingaggiato qualcuno. Cosa te lo fa credere? Non lo so. La Sierda prende un sacco di accordi. Sta succedendo qualcosa. Cosa? Non lo so. Non sai proprio con chi ha parlato. No. Allora non mi servi più. Perca! È quello il server su cui il tecnico ha trasferito le registrazioni dell'interrogatorio. Devi trovare il modo di accedere. Bel lavoro, Sam. Così hai cancellato qualsiasi informazione Morganolt gli potesse aver rivelato. Non si chiederanno cos'è successo. Non è stato difficile far apparire la tua intrusione come un piccolo errore di allocazione di memoria. Non ti preoccupare. Ti diamo sempre gli strumenti migliori. licenziati a causa delle voci secondo quegli agenti segreti europei si sarebbero travestiti da soponditori per indagare tra le ruine e linee di alcuni edifici cooperativi distrutti dal terreno. Sono scoperto, non te la partita di pop, che ti ricordi? E adesso il cancello è rotto. Boo. Sapevo dove è il cancello. Cosa? Fa tutta la vita. E questo posto pieno di nottà. E ti ha messo il cancello qui? Sei uno di loro. Io sì. E inolio. Gli americani hanno ucciso la mia famiglia. Cos'è questo casino? Cosa? 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 Cosa stai lavorando? Ah, oddio, chi sei? Mi hanno già fatto questa domanda. Perché non rispondi alle mie conti? Sto cercando di attaccare il cavo della corrente al faro. Perché? La corrente che arrivo al server principale nella torre sud-ovest non è stabile. Dobbiamo proteggere i dati. Devo darti una brutta notizia. Ai dati del tuo server ci ho già pensato. Oh no, la sierda mi ammazzerà. Forse dovresti preoccuparti di me più che di la sierda. Oh! 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 C'era qualcosa. C'era un'altra cosa. 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 C'era un'altra cosa.